Ciao a tutti archetti di Norco Verde, in questo video vi mostrerò le sfide del pass battaglia della settimana 9 che usciranno giovedì mattina su Fortnite. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione e a lasciare un bel mi piace al video, grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito! Poco fa il solito insider di Fortnite ha pubblicato questa immagine contenenti le sfide del pass battaglia della settimana 9. La prima sfida sarà infliggi danni con armi esplosive agli avversari, dovendo infliggere 500 di danni agli avversari con armi esplosive per completare la sfida. Poi la seconda sfida sarà cercaforzieri a putrido pantano, dovendo cercare 7 forzieri a putrido pantano per completare la sfida. Poi la terza sfida sarà usa un carrello della spesa, perciò dato questa sfida probabilmente nel prossimo aggiornamento insieme alla modalità parco giochi torneranno i carrelli della spesa. Nel caso i carrelli della spesa non verranno rilasciati nel prossimo aggiornamento, gli sviluppatori sostituiranno questa sfida aggiungendone un'altra diversa, come già successo. Poi la quarta sfida sarà visita diversi negozi di taco in una singola partita, dovendo visitare 3 diversi negozi di taco in una singola partita per completare la sfida. Poi la quinta sfida sarà cerca tra titoli di film, una delle classiche sfide dove bisognerà trovare la stella nella mappa. Poi la sesta sfida sarà eliminazioni con fucili a pompa, dovendo eliminare 4 nemici con fucili a pompa per completare la sfida. La settima e ultima sfida sarà elimina gli avversari a acri anarchici, dovendo eliminare 3 avversari a acri anarchici per completare la sfida. Queste saranno le sfide e le pass battaglia della settimana 9 della stagione 4 che usciranno giovedì mattina su Fortnite. Quindi dentro ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orkoverde tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!